E ti dico una cosa, io faccio un appello al sindaco questa volta, da Vincenzo che ha le capacità, il potere assoluto di creare e di convocare delle persone in grado di poter prendere la sanità, da oggi in poi, per programmare una squadra degna della città di Salerno, perché noi siamo una città che va in Europa grazie al nostro sindaco, però non possiamo andare in Africa con tutto il rispetto, con il calcio. Io credo che in questo momento l'unica persona che potrebbe convocare il Cavaliere Amato e affidargli la sanità in questo momento sia Vincenzo De Luca.